Tre punti per scacciare le paure ed invertire la rotta. Per l'Avezzano è già una partita importante. Nel turno infrasettimanale del girone F di Serie D, Aldemarzi arriva il Castelfidardo per cancellare la beffa di Giulianova e lasciarsi alle spalle la zona calda della classifica. La sfida, tutta bianco-verde, può già scrivere un nuovo inizio. Turnover per Mr. Giampaolo che barra la baby difesa con Schirone, Puglielli e Dijan Felice e lascia al riposo Capitan Menna. Sulla tre quarti c'è Jonathan Alessandro con Cerone e Pellecchia a supporto di Dos Santos. Tra i pali esordio da titolare per Franca Bandiera. Dopo due minuti di gioco è dell'Avezzano la prima occasione, con Pellecchia che calcia dal limite e trova la deviazione della difesa avversaria. Cinque minuti più tardi, Rivi per poco non impensierisce Franca Bandiera con un tiro da fuori aria. L'Avezzano fatica a costruire il gioco, ma al quattordicesimo va in vantaggio grazie ad un gran sinistro di Michele Bisegna che si insacca sotto l'incrocio. Al ventunesimo però, un buco della difesa bianco-verde spalanca le porte a Calabrese che di destro confia la rete. 1-1 meritato per i marchigiani. Al trentaduesimo l'Avezzano prova a reagire, ma il tapin di Cerone è respinto dal palo alla sinistra di Bottaluscio. Dodici minuti più tardi è ancora il capitano bianco-verde di giornata ad impensierire l'estremo difensore ospite che se la cava in due tempi. Squadra a riposo sul risultato di 1-1. Nella ripresa Giampaolo lascia negli spogliatoi Schirone e manda in campo Besana. I marchigiani iniziano a fraseggiare con qualità e al quinto minuto trovano il vantaggio con un gran sinistro da fuori di Federico Cerone che bacia la traversa e va ad inzaccarsi alle spalle di Bottaluscio. All'undicesimo Dos Santos fiora il tris, ma il portiere ospite è bravo a disinnescare il calcio di punizione del brasiliano. Al sedicesimo si vede il Castelfidardo con il tiro di Trillini che va fuori di poco. Tre minuti più tardi Bisegna illumina per Dos Santos che con un pallonetto millimetrico supera Bottaluscio per il tris dei marzicani. Poker di Biancoverdi che arriva al ventiduesimo grazie ad un calcio di punizione di Federico Cerone che trova l'angolino alla sinistra del portiere ospite. Al Dei Marzi l'atmosfera si fa più distesa e Giampaolo fa esordire Conti e Dosa per Cerone e Bisegna. Mister Pazzaia corre ai ripari inserendo Piggini, Grazioso, Masso e Mialov per Lombardo, Giovagnoli, Bracciatelli e Trillini. In pieno recupero arriva il sigillo del 5-1 Biancoverde grazie al neo entrato Dosa, esterno offensivo classe 2000. Tre punti importanti per l'Avezzano che annulla la penalizzazione e si porta a quota zero. Il vero campionato dei Biancoverdi inizia da oggi. Sergian Paolo, un po' di turnover all'inizio, un avvio di partita in cui si è visto un Avezzano un po' contratto, poi è venuto fuori il vero Avezzano. Sì, abbiamo fatto un turnover perché ci sono tre partite da settimana e è giusto dare spazio a quelli che hanno giocato meno e che poi si impegnano molto in allenamento. Oggi abbiamo giocato con una linea difensiva Schirone di Gianfelice e Puelli in 2000, solo Sbardella era un over e si sono comportati molto bene. È vero, siamo partiti bene perché abbiamo fatto gol e potevamo farne un altro. Poi abbiamo subito questo gol, ci siamo un po' contratti il primo tempo, ci è subentrato un po' di paura. Però poi il secondo tempo è uscita la qualità della squadra. Abbiamo fatto dei gol bellissimi e penso che nel secondo tempo non ci sia stata partita. Considerando anche il fatto che avete affrontato già il Cesena e avete fatto una bella figura, quali sono le prospettive di questo Avezzano? Si può davvero lottare per qualcosa di importante? Per quanto riguarda la qualità, questa squadra è stata costruita apposta per alzare l'asticella. La qualità dei giocatori ti fanno vincere le partite, abbinata alla concentrazione, alla voglia, all'attenzione. Noi precedentemente, sia col Cesena e il primo tempo col Monte Giorgio, abbiamo fatto delle grandi prestazioni. Ci è mancato un po' di attenzione, però volevo la risposta oggi con il Castelfidardo che è venuta fuori.